eccomi qua di nuovo collegato per cercare di portare la vittoria la macchina delle macchine cioè la milano red passion of the models of the top models è il russo che ha vinto nella gara nella gara prima o che ha preso il giro veloce per prima la macchina delle macchine le regine delle macchine lampeggio prima fila si parte a destra la prima curva gira a sinistra il Grazie a tutti. 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 Il tempo è basso. Grazie a tutti. Toyota. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niente giro veloce.